Signore e signori, questo è il podcast qualunque Opinioni, fatti e idee Si scontrano nell'arena del libero pensiero E benvenuti all'episodio numero 24 del podcast qualunque E siamo tornati in diretta dopo un episodio pre-registrato che era molto molto leggero E proprio la volta che abbiamo fatto l'episodio pre-registrato Succede tutto, tutto succede Tipo la guerra Terza guerra mondiale Donne che muoiono Uomini frustrati Donne martoriate Discriminazioni Odio razziale Trump che twitta La Cina con furore Nord Corea in crisi Insomma, Danda si sposa È successo di tutto Auguri Danda Per il tuo matrimonio Sì, cazzo Fate gli auguri a Danda Perché finalmente è arrivata la proposta che lei aspettava Da quanto tempo aspettavi la proposta, Danda? Mai, perché non mi è arrivata nessuna proposta E stai al gioco, porca puttana Magari Stavo da un'ora Oh, magari ti facevano pure Aspetta che mettiamo la chat Mettiamo la chat che c'è Dino Pop out the chat Pop out Puffete Popiamo la chat fuori A seguirmi Sono molto stanco Gli americani tramite le scie chimiche Mi stanno assonnolendo Per impedirmi Che la verità venga a galla Io lo adoro Bastardi americani di merda Chiunque sia Che poi Tu odi gli americani Danda Io li odio, sì, è abbastanza Gli ho sempre odiati, sempre Quante cose che hai in comune con il nostro Dino Tinelli È vero Senza contare Che in effetti in questo periodo Anche io mi sento molto stanco E questa è proprio una fase di scazzo allucinante Mi sa che magari sono proprio le scie chimiche Che ci stanno stancando Noi diamo la colpa al cambio di stagione Agli sbalzi di temperatura Però potrebbe anche essere il vaccino Che ci hanno inculcato Da piccoli Che entra solo adesso in azione Sì, entra in azione Perché con le scie chimiche C'è stato il complotto Si sono unite le due cose E boom Complotto scie chimiche più vaccino E poi il cambio stagione Sì, certo Ti mando un bacio Dino Tinelli Oh, grazie Dino Guardate, Dino Dato che la proposta di matrimonio non è arrivata alla fine Tu hai spazio per farti avanti E se tu riusciresti a dire di no a Dino Tinelli No, con quel visino Scusa, tu immagina il matrimonio Su ovviamente il suo piatto Il matrimonio in 2D Un matrimonio piatto bidimensionale Gli ospiti, chi verrebbe ospite? Io mi immagino Chi sono i complottisti famosi italiani, cazzo? Non ce ne sono Tutti abbastanza oscuri Quelli di mistero, forse Ospite ci sarebbero tutti quelli di mistero Più qualche coglione del trash di Maria De Filippa Rats the Gun, forse Sì Cosa fa Rats the Gun? Cosa crede? Ma non so Ma perché allora Io ho sentito dei miei colleghi Che dicevano Lì all'isola dei famosi Era tipo un po' invasato Però io non vedendolo Non vedendola non lo so C'è anche C'è anche il maschio di Danda C'è anche il maschio di Danda Lo sapevi il maschio di Danda Che hai fatto una proposta di matrimonio A Danda in diretta Un applauso! La proposta la facciamo ma solo nel nome del Signore Quindi abbiamo i due pretendenti Dino Tinelli si fa avanti però Deve farla Insomma vuole che ti sposi nella casa del Signore Beh ovvio Dopodiché dovete battezzare il pargolo Beh mi sembra il minimo Battezzo, comunione, cresima e tutto Tu Danda dove hai mollato? C'è? Hai mollato con la comunione Hai mollato con la cresima Fì dove sei arrivata? No io ho tutti i crismici A tutti? Cazzo sei schillatissima Ah sì? Perché hai fatto? Com'è la cresima? Io non l'ho mai fatta Io non l'ho fatta Ma la cresima non me lo ricordo esattamente Mi ricordo che dovevi C'era il vescovo forse Cazzo ne so io Io non c'ero Io l'ho tagliato Ma niente c'era una messa come al solito Poi c'erano i parenti Che palle E poi c'era il pranzo orribile Con tutti i regali che nessuno vuole Tipo le cose d'oro Mi hanno regalato una collana orribile Con un ciondolo Disgustoso Questa gioielleria un po' contemporanea così E sembrava tipo un piede Era orrendo Io avevo un orologio placcato d'oro penso Alla comunione Alla tre cazzate E avevo lì da piccoli Ma perché tutto questo? Perché sto perdendo una giornata della mia vita? Io mi ricordo che mi avevano regalato la comunione un anellino d'oro con la sirenetta E io lo volevo mettere No! Non si mette la roba della comunione Che pazza Esatto E in pratica poi questo anellino non mi è mai andato Perché ha una misura da bambini Che è una stronzata allucinante No la cosa È proprio follia pura la comunione Spesso sono venuti gli zingari e mi hanno rubato tutto l'oro che avevo in casa Eh perché ti tieni l'oro in casa cazzo Eh beh c'è dove dovevo metterlo scusa Eh lo tieni Sotterrato sotto una pianta di cigliaia Esatto Io c'ho il pesco in cortile e poi metterlo sotto il mio pesco Ok E poi l'oro dai L'oro fa molto anni 90 Che cazzo è? L'oro non vale più un cazzo ormai Ma no non è vero Sì vale ma ha più il valore di nuovo Se il petrolio è il nuovo oro Dovresti tenerti i barili di petrolio sepolti in giardino cazzo Quello è un investimento sicuro Sì tipo un eco mostro Sì esatto Poi tipo dopo un po' vedi che iniziano a morire le piante Gli alberi che iniziano a passire I bambini si ammalano di tutto Esatto I bambini dei vicini iniziano ad avere i tumori E tutti Guardate un po' tutti quelli intorno a casa di Danda Iniziano ad avere tutti i tumori Muoiono E tu Oh io proprio non lo saprei E guarda che tutti quanti coltivano pomodori E roba del genere nel terreno vicino a casa tua Ma tu non ne sai niente E io non ne so niente E sai quante cose succedono del genere però davvero nel mondo Tipo a Napoli Dove sotterrano tipo l'immondizia per terra Solo dicono Eh tanto con cime Con cime per la pasta Per un favolo da mettere sulla pizza Eh non solo lì purtroppo Eh Eh Danda Danda Quante immondizie hai visto tu nella tua vita? Eh tanto Tanta immondizia Ragazzi Guarda il problema di immondizia comunque È una realtà eh Non è una stronzata Ma anche qua comunque Io ogni tanto vado Vedo Nei boschi che abbandonano Minchia che fastidio A me da fastidio la gente che abbandona L'immondizia nei boschi O nelle strade così periferiche Dove io vado a correre Perché Io penso Tanto l'immondizia la paghi Non la tassa sull'immondizia la paghi Così sei rincoglionito doppiamente Perché tu la paghi lo stesso Sì 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 Vagano la Ares La Tasi o come cazzo si chiama Sì no ma infatti non ha nessun senso Solo che non c'hanno voglia di andare fino all'ecocentro Per buttare di più di più ingombrati Ma sono Ma a me quello che mi fa incazzare di più di tutti Che spesso sono I sacchi della plastica Cioè vengono pure a prenderteli a casa Quindi sei proprio mongolo Proprio mongolo Magari quel giorno Sono dimenticati E allora lo butto nel bosco cazzo Una volta ho quasi beccato una vecchia Che stava buttando L'immondizia nei miei bidoni Era praticamente lì con la sua panda Sai io abito in una zona un po' imboscata Sì 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 ma lo facevo anch'io questo all'inizio Era con la sua Da casa mia o No no non a casa tua A casa di altre Era con questa panda Imboscata lì E l'ho vista che scendeva Io tornavo dalla mia corsa E ho visto sta qua Davanti ai miei bidoni Ho detto ma che cazzo fa Vedo che va lì Poi mi vede Ritorno in macchina furtiva E ho visto che poi mi è passata di fianco E che aveva la macchina piena di immondizia Volevo buttare l'immondizia nei miei bidoni Vabbè ma qual è il problema Volevo buttare lì a casa tua Ma non ho capito Perché devi venire fino a casa Beh io lo facevo perché non avevo voglia di andare in comune A prendere tutta la roba Allora la buttavo in quella dei vicini E l'organico me lo mettevo in macchina E lo buttavo dentro uno che trovavo per strada Tipo Ma erano già inscatolati i suoi rifiuti Impacchettati nel bidone E me lo dovevo buttare nel bidone Quello è il problema Non c'avevo voglia di andare in comune A prendere quel bidone Sai che devi prendere il bidone in comune Per da metterlo fuori no? Sì Allora io scaltro Facevo un mega sacco di indifferen... Di umido Che durava una settimana Lo caricavo in macchina Sto sacco Che ballava tutto Schifo allucinante E mentre andavo da Steve Andavo qua in sta casa Che c'era sempre fuori Tanto è della chiesa sta casa Cazzo me ne fotte Andavo Ci buttavo dentro il mio cazzo di indifferenziato Di umido E poi me ne andavo Facendo così Bravo Fuck the system Bitches O erano tipo le prime settimane Che vivevo da solo Ci ho messo tipo Un anno quasi A andare a prendere il bidone Vabbè L'importante è che non l'abbandonavi in giro E poi cosa è successo? Un cazzo di animale Mi ha distrutto Il bidone dell'umido adesso Me l'ha mangiato Non so come cazzo ha fatto Sono andato L'umido non c'era più Ma mi hanno anche spaccato Proprio sotto un bidone Minchia Non so come cazzo ha fatto Ma ha proprio strappato la plastica sotto E preso via i sacchetti dell'umido Che sono spariti nel nulla Quindi se li stavano mangiati tipo tutti E Eh sì Bastardi E quindi adesso mi tocca andare di nuovo in comune E quindi dato che non ci voglio andare di nuovo in comune Amici della chiesa Preparatevi a ricevere il mio umido di nuovo Non fa così ridere Non lo so Non lo so La terra intera è una discarica in realtà Una gigantesca cava di rifiuti No non è cava la terra Devi stare al piano È piatta La terra cava è un'altra teoria ancora Vabbè ma lui abbraccia un po' tutte le teorie Hai ragione Di notinelli non si spaventa di niente È una persona Che non ha paura di cambiare idea Cazzo Guarda che è ammirevole nelle persone Quante persone Se hanno un'idea Hanno poi paura Come se si sentono degli stupidi a cambiare idea No Bisogna abbracciare le idee nuove La terra piatta La terra cava La luna in un'astronave Gli angeli esistono Tutte delle gran figate Ma passiamo All'episodio numero 24 Del podcast qualunque Perché abbiamo Preso qualcosa di particolare per voi Anzi non molto particolare Ma Danda non sapeva cosa sono No Danda non sapeva cosa sono E Danda vive Fuori da internet Fuori dall'era dell'informazione E quindi non conosce E mi si è rotta l'antenna della televisione Quindi sono disinformatissima Su me Esatto Ma soprattutto È disinformatissima Sulle culture di internet E questo è solo il primo passo Perché tu non lo sai Ma esploreremo Adesso è venuto un percorso Che parte da qui E va E va nell'era dell'informazione Nell'etere Là dove Qualunque persona Può incontrare E unirsi In più e più modi Con altri individui simili E Buona sera ragazzi E che cos'è questo? Che cos'è questo? Io subito Quando mi hai fatto vedere Questo video Pensavo fosse uno Che non voleva farsi riconoscere Per qualche motivo Tipo quelli lì Che hanno quella Maschera con Quei baffi Presente Maschera con i baffi È un po' generico Cos'è vendetta Ah vi di per vendetta Maschera di vi per vendetta Sì un anonimus Un anonimus Ecco bravo E che ero Ma che fosse Poi invece Parla di sti furri Esatto Questo è un furri Ma io non ho niente Con te furri Poi lo fanno vedere Ma no neanche io Lo fanno vedere L'ignoravo fino a dieci minuti fa Penso un po' Penso un po' quanto posso Avercela con l'op E non sei informata Sui fatti come sempre Eccoci qui per il nostro Quarto appuntamento Innanzitutto Grazie per avermi seguito Sino a oggi Sono molto contento Delle visualizzazioni E soprattutto Di chi di voi Mi ha contattato Per Per suggerirmi I miei argomenti E di chi ha lasciato I compiti Un ringrazio Mentre ho sentito a tutti Oggi parlerò Tu non puoi entrare Se non No perché La tua persona questa Non è una cosa Ma esattamente Qual è lo scopo Allora Bisogna fare un attimo E allora I furri Sono Persone Che Vogliono Non è che Dicono Non sono come Un'altra Come gli attacking Che sono un'altra cosa Loro non è che Pensano di essere Un animale Per intenderci Loro vogliono interpretarlo Questo furri Questa fursona Si sentono Più all'oraggio A interpretare Questo lupo Puoi essere un pony Puoi essere qualunque animale Ma vivono questa condizione 24 ore al giorno O solo in alunni Di quei cosplayer Eh allora Molte Quelli più soft Alla fine sono Dei banalissimi cosplayer No Non lo vedono come Ci sono alcuni Che invece Vanno proprio anche Per negozzi In giro Vestiti da furri Che in Italia Non se ne vedono Penso Mai visti Però in America Qualcuno c'è che lo fa E poi si sentono Tipo Fesi Se li pigliano Per il culo Cosa del genere Che fa abbastanza ridere Ok Cioè nel senso Non è che bisogna Bullizzarli Però io penso Io penso che se una persona Va in giro Vestita così Cioè Lo fa per attra Per attirare un po' di attenzione Ovvio Ovvio E perché Questa è l'era di internet In cui tutti hanno bisogno Di sentirsi speciali E alcuni Lo fanno Andando su YouTube E lanciando Un podcast Che fondamentalmente Non segue nessuno Dove Parla praticamente Da solo per un'ora e mezza Con ospiti a caso E cerca di confiare Il suo ego In ogni modo possibile Come te Esatto Altre persone invece Indossano una maschera Da cane E vanno in giro E ti spiegano Cos'è la loro furzone L'altra volta abbiamo parlato Di Fursuit La volta prima Invece di Furry Oggi analizziamo Le furzone Almeno in genere Dunque Molti di voi Mi hanno chiesto Se c'è una regola Se ci sono delle linee guida No Non ci sono né regole Né linee guida Da seguire Al massimo io posso darvi Qualche dritta E qualche consiglio Essenzialmente Prima di cominciare Io direi Che la furzona Vi deve venire Da dentro Non è un perso La furzona Ti deve venire dentro Perché comunque Si ha l'aria Sulla quarta corda E quella Che usa quarta Ma noi abbiamo già visto Un pezzo di video Quindi sentiamo benissimo Che dopo sarà a caso Ah vabbè Sì Il personaggio Per un gioco Essere Furry È semplicemente Un modo di essere Quindi la furzona Vi deve venire da dentro Ve la dovete sentire Il fatto è questo La cosa che mi La cosa che è il mio dubbio Un conto è sentire Un'inclinazione sessuale Diversa Un conto è sentirsi A disagio nel proprio corpo Ma come fai A sentirti come bisogno naturale Quello di metterti addosso Un vestito E un costume Praticamente E lì Come può essere definito Un bisogno naturale Questo Natural Non è sicuro Però magari Se uno parlasse Con uno psicologo Probabilmente Ti saprebbe dire Come mai Certe persone Sentono questo genere Di bisogno Dovremmo avere Un ospite psicologo Che figo Se mi piacerebbe Sì Se mi piacerebbe Sì Un ospite Con E poi Io farei una puntata Dedicata Gli farei vedere Questi Furri E gli farei vedere Tutti Le subculture Di internet E dire Ma che cazzo è Perché Secondo me Ripeto È un modo Di manifestare Il proprio ego Hai bisogno Di essere speciale E questi sono mezzi Che per essere speciali Perché cosa ci vuole A mettersi fondamentalmente Un costume del genere addosso Vai su ebay Te lo compri Te lo indossi E di colpo appartieni A una categoria Speciale No Allora Probabilmente Allora Noi viviamo in un mondo In cui Tendenzialmente Dobbiamo essere omologati Per Per Sentirci accettati No Però Sezionarsi In Come si può dire In fazioni più piccole Ti fa sentire Più parte di un gruppo Probabilmente Cioè nel senso C'è La grande massa Di quelli che si vestono Più o meno Tutti simili Che sono Un grande insieme Poi ci sono Poi ci sono Tutta una serie Di sottinsiemi Più piccoli Che ti fanno sentire Più accettato È come vivere In una grande città In un piccolo paese No Magari All'interno della tua comunità Che vi vestite da Da Furri Ti senti comunque Parte di una comunità Eh sì sì Il senso di appartenenza Eh sì Ed è un senso di appartenenza Che puoi ottenere In modo facile Fra virgolette Devi solo Essere vestito così E dire che sei un furri E dato che non è che sia Una comunità così vasta Non è che stanno lì A vedere il pelo nell'uovo Probabilmente Ciao Zanfox Minchè sia Ha un pc della madonna Sto cazzo di Di gatto Non credo che sia un gatto Non è un gatto Non è un lupo Tipo un lupo Sì sì Ma forse Zanfox ci segue dall'hotel L'aveva detto Quindi magari Il wifi prende così male Che diventato un gatto E poi è il naga Il mouse super cazzuto In effetti questo C'è il gavano Si vede che c'è il gavano Beh anche C'è cazzuto Anche il costume Ha due maschere Il costume muove la bocca Quindi non è un costume del cazzo Eh sti furi Anni big money Però Però vedi la barba lì Del cane Il pellicciotto qua sotto Però sembra proprio Cipo Non Non potete mettervi a tavolino Ah deve essere così Di qua in là Adesso tiro un di sei Ecco Eccolo qua Ecco Di dieci Di venti Sommo di video Faccio il logaritmo L'integrale E la derivata Oddio Le derivate Andiamo a scomodare Vabbè Eeeh Merdamatica a parte Si io Io ho matematica Merdamatica Perché è brutta E di matematica Merdamatica Merdamatica Non fa ridere Non fa ridere Non fa ridere Non so che non fa ridere Merdamatica Sia ben chiaro Danda Un cane gatto Minchia Un gatto dall'hotel Un cane da casa Posso soffrire La chiamerò sempre Merdamatica Come l'ho sempre Chiamata a scuola Eeeh Detto ciò A parte le disquisizioni numeriche Quindi Non ci sono regole Tuttavia Io vi direi Tenete presente Che una fursona Sarebbe meglio Se fosse coerente Con voi Nella realtà Cosa intendo dire Intendo dire Che voi Non dovete reggere la parte Quindi come prima cosa Dovete essere voi Non ha molto senso Che la fursona Abbia una certa personalità Poi invece voi Ne avete un'altra Anche perché così Rischiate solo Di creare confusione Non farvi nessun amico E anzi magari Puoi Non farvi nessun amico Perché Il consiglio numero uno Per farsi gli amici È essere un furri No Lui dice Non scegliere un furri A caso Devi essere Non devi interpretarlo Devi esserlo Tipo Tu saresti un furri gatto Non puoi dire No al furri gatto Voglio fare il furri cane Anche se Bau 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 Esatto Perché io dico Minchia Sto qua è forzato Si vede che non è un Si vede che non è un Bevo cane È un gatto Travestito da cane Capito Ho capito Ho evitato Mentre invece se siete voi Sin da subito Vi verrà anche spontaneo Altra cosa riguarda Il fisico Della fursona Ora è vero Non ci sono limiti Alla fantasia Né niente Però Diciamo che se siete Uno con la mia stazza Inutile che vi facciate Una fursona Che poi sarebbe Tipo Hulk Perché poi Al di là di quando Dovete farvi una fursuit Come cavolo fate A farvi una fursuit Di una cosa Che ha la stazza di Hulk Ma Hulk Non è un animale No Tipo Hulk Insomma Sia muscoloso Ah ok Tipo un orso Tipo Danda Con le sue tette Non può fare Tipo Che ne so Un toro Esatto Perché A meno che le tette Non le fai a posto delle palle Però potresti fare Una gatta Gatta? No io mi sento più cane Una cagna quindi Danda è una cagna Smettila Non è vero Cosa non è vero? Avrei appena detto tu Cane Cagna come lo intendi tu Non lo intendo Come lo intendo Che ne sai? Che ne sai? Lo sento dalla tua fursona Che sei La mia fursona cos'è? Che sei malintegnata Io mi ci vedo orso Come fursona Non lo so tu Che fursona potresti essere No Non sono orso Mamma Dai sì Non lo so Ho troppo scontato Orso Perché sei barbuto E no perché sono barbuto Anche di carattere no? No Non sei così schivo E allora cosa potrei essere? Un cinghiale Un cinghiale E mi incorreva la gente E la incorma E il gruppo lì per terra Col tuo naso È vero Sono un maiale Annuso tutto E sporco dappertutto Bravo Sì sono un cinghiale Brava Danda Hai identificato la mia fursona Sei un furride Soprattutto voi Ci fate una magra figura Lo stesso discorso vale anche al contrario Se avete la stazza di Hulk Non ha troppo senso Farsi una fursona Che alta un metro e un ciclis Ha un fisico Che manca una ragazzina Di 12 anni E parla tutto così Cioè È meglio Se la fursona è coerente Poi ovviamente Sì è difficile essere un furri Comunque Peggio della religione Cazzo Vedi come anche loro Sono tutti incentrati Sull'aspetto fisico Cazzo Vabbè È tutta una cosa Concentrata sul costume Però se io sono Se io sono Alta un metro E quaranta E mi sento un grizzly Non posso fare Non posso fare Non puoi fare la fursona grizzly Dai Danda Per favore Tu non sei un grizzly Tu sei Una delicata gattina Una Oppure sei una porno gatta Con un costumino Da Halloween Da gattina Tipo Sì mi immagino Io fare la porno gatta La porno Hashtag Danda porno gatta Ma fate un fotomontaggio Qualcosa Anche non lo fate Che poi cazzo Perché le gatte Vengono viste come cose sexy Vanno sempre nella sabbietta Le gatte sono sexy Dai Guarda i costumi da gatta Sexy Ma perché non sono gatte Il gatto è sexy Per come si muove Per come si atteggia Vedi questo Questo è uguale a un gatto Non vedi Sì è proprio un gatto Questo tipico costume da gatto Scusami Questa è una forzona Anche questa Guarda tutti questi costumi È uguale identica alla mia minù Questa vedi È ovviamente un vestito da gatto È ovviamente un gatto Beh questa è Catwoman Infatti Questa è Catwoman Vabbè ma Questo è invece Un altro gatto Palesemente Il costume Grida gatto Ma che fa tu Uno con un brufolo schifosissimo Nell'altro schermo Dove? Lì Ah perché stavamo cercando disgustoso Che schifo Togli Dov'è il brufolo disgustoso? Ma lì Ma non lo vedi Vicino a quella lì Con scritto file E quell'altro con la faccia strana Dov'è? Non lo vedo Su Ma su Facciamolo vedere a tutti No no ti prego Ta tan tan No ti prego Questa è la faccia di Danda In questo momento Esatto Esatto Quella è la mia fursona E la sua fursona è un tizio disgustato Danda non sei un grizzly comunque Vabbè Andiamo avanti A voi lungi da me giudicare Semplicemente però Più è coerente con voi E meglio vi troverete Eh Differente il discorso tra fursona e personaggio Per dire Nei miei libri ci sono diversi personaggi Furri o meno Ecco Nei miei libri Io sono io La mia fursona è questa Comunque sono io in tutto e per tutto Eh? I personaggi sono diversi È un po' confuso sto mondo del furria Al di là del fisico Hanno una personalità diversa Hanno una mentalità diversa Agiscono e pensano in modo diverso Da come agire io Ma appunto Quelli sono personaggi Non sono la fursona Ma non devi Ma appena hai detto che non dovevi recitare Per fare il furri Dove essere una cosa che ti senti Eh infatti sta dicendo quello Che non devi recitare Perché C'è differenza tra essere una fursona E essere un personaggio No? Non ha detto quello? Sì È che si sta esprimendo un po' male Eh ma perché è un furri Non conosce ancora bene la lingua probabilmente Mi manca il centro del linguaggio Ci possiamo sbizzarrire Avevo detto già in un video Che poteva Ci sono delle fursone inflate ball Ebbene sì Alla stessa maniera Degli inflate ball Ci sono gli animali marini Non ci sono solo animali Ricoverti di pelliccia signori Eh no Eh no Ho visto una fursona polpa una volta Per quanto discutibile esteticamente Forse Essenzialmente secondo me Non ha neanche troppo senso Un cefalovole Però De gustibus Non disputando Sì i puristi diranno Non est Disputando Non ci sono diverse scuole di pensiero Secondo alcuni Addirittura Questa frase non è mai esistita Ah oh Il senso è l'è quello L'importante è l'è questo Eh Eh Ma poi di tutto c'è Queste tangenti Che poi si rende conto anche lui Che mi piace l'espressione Che è il furri qua Se va buono Faccia bene ragazzo Sì Se va buono È bello Ci sono gli animali mitologici Ebbene sì Volete essere un grifone Potete esserlo Sì Potete tranquillamente esserlo Sì Io voglio essere L'ugaro spinato Di Harry Potter Il gardio delioso Oh cristo dio Cos'è che volete Ma perché io non capisco Un mostro di Harry Una roba di Harry Potter Ha detto Potete essere anche L'ugaro spinato Io vorrei essere Sai chi di Harry Potter Chi Hermione Ma non è un fuori È un'attrice Ma nella vita vera Cosa vuol dire È bella L'attrice Ah l'attrice Ma sì è un po' La fantasia erotica di tutti Che a me non ha mai detto niente No non è una mia fantasia erotica E mi sembra una ragazza bella A me piace l'una di Harry Potter Questa mi arrapava Questa qua Ma Mi sembra un'albina Sì appunto Mi piace la pelle bianca A me non piace Sinonimo di purezza Mica Eh Sì è ovvio che non è davvero pura Perché è un'attrice Dai mo io preferisco lei a Hermione No Sì Ma figurati Perché no Ma dai L'attrice che fa Hermione È mille volte più bella Io preferisco lei Vabbè È invecchiata così Invecchiata È cresciuta Non è ancora invecchiata Sì ma non si dice Per il momento invecchiata Avrà 25 anni Vabbè Comunque ormai è da buttare Fra 5 anni sarà da buttare Non sarà più utile alla società Vabbè Mi piace un sacco Molto più di Hermione Vabbè chi se ne frega Vabbè chi se ne frega Ma me ne frega Perché non mi dà fastidio Che Hermione è considerata Questa dea come se Hermione fosse La donna più figa dell'universo L'attrice che fa Hermione Quando poi è una persona Normalissima secondo me Non ci vedo niente di così sensuale In Hermione Mi piace perché le orecchie un po' a sventola A me piacciono tanto le orecchie a sventola Tutto qua? Cosa? Tutto qua? Cosa? Tutto solo per le orecchie a sventola? Poi tu non sono belle le orecchie a sventola A me piacciono In una ragazza mi piacciono Eh vabbè Per come l'hanno messo nel film Lungaro Spinato è più una viverna che non un drago Ma lasciamo le disquisizioni agli esperti di bestiari Direi che gli esperti di bestiari Sono un po' copiato nel frattempo E ovviamente varie bestie create in laboratorio Come il sottoscritto Il laboratorio Il laboratorio Ma sei un lupo Non è una bestia create in laboratorio Perché dovrebbe essere una bestia create in laboratorio? Non lo so Non lo so È troppo confuso sto mondo Vedi? Però tenete sempre a questo pianeta Ponto Beh sì Anche fuori Non è che sia proprio Diciamo che ci fosse una guerra atomica Ok? Sì Una mega apocalisse atomica Non vedo i fuori in cima alla catena Del Del Alimentare Ecco Mi sa che Probabilmente si incendieranno le loro tute E moriranno Incendiate le loro tute Sì esatto Quindi si incendieranno come niente E quindi i fuori non possono sopravvivere all'apocalisse atomica Che mai è prossima Che è meglio Se la vostra fursona ha delle caratteristiche che siano fisicamente giustificabili Cosa intendo con fisicamente giustificabile? Dica Un inflatable per esempio È una cosa un po' borderline Perché essenzialmente è un gonfiabile Basta È un materassino pieno d'aria E che c'è? I muscoli indostano Gli organi indostano È bene Che ci sia un qualcosa che giustifichi Quindi Vale la pena Se avete voglia Di Mettervi a fare un po' di background Anche se la fursona non è un personaggio Un minimo di background Ci sta sempre bene Io non capisco Se sono io che non capisco O se sta dicendo Allora da giocatore di ruolo so che il background lo fai del tuo personaggio Prima dice che non vuole fare un personaggio Adesso il background cioè ti inventi la storia della tua fursona Tipo lui dirà Io sono vittima di un esperimento che mi hanno trasformato in questo uomo lupo Esempio Sì Questa può essere una spiegazione Però Non lo so È strano Lo stai trattando come un gioco a questo punto Lui all'inizio diceva che non devi trattarlo come un gioco In pratica non abbiamo capito Esatto Dopotutto Non è detto che la fursona debba avere la vostra stessa storia Avete avuto un'infanzia difficile Bene Fate tabù la rasa Fate tabù la rasa E fate un'infanzia rosa e fiori Tutto qui Semplicemente Oppure un background più in generale Che giustifichi appunto Che si possa essere per esempio un inflate ball Oppure Ma cos'è un inflate ball? Un inflate ball sono quelli gonfiabili Perché Sei una persona gonfiabile? Sì esatto Ma sei quelli che tipo magari ti metti il costume Poi lo gonfi E ti farà magari i muscoli finti Quelle robe lì Quindi magari puoi farlo Per fingere di avere un pene più grande Così al primo appuntamento Stai così E si gonfia il pacco Sai che figo Ma che cazzo Sei La delusione dopo Sì Un po' come con i reggisani imbottiti Sì esatto Poi potete farlo ed è socialmente accettabile Vedi? Noi uomini invece non possiamo farlo Un'altra cosa che le donne possono fare Gli uomini non possono fare Senza essere giudicate Cazzo Non possiamo fingere di avere un pene enorme Bastare Usando un fade ball Un fade ball Un grifone Perché giustamente Un animale mitologico Non è che lo si veda tutti i giorni Beh anche un uomo lupo Non è che lo vedo Neanche un giorno sì Un giorno no Non tutti i giorni C'è nel senso Che è proprio un animale mitologico E vale la pena Strullucchiate un pochino Inventate qualcosa Strullucchiate Siete una bestia di laboratorio come me? Vedi che è una bestia di laboratorio? Te l'avevo detto È più semplice La mammina genetica era un aschi Hanno preso un Una genetta per aumentare Alcune caratteristiche muscolari e fisiche Una genetta hanno preso Non ho capito niente Senso dell'agilità Ed eccomi qua Ora Molti non lo sanno Ma chi legge i miei libri Sa che io avrei anche delle ali Un minuto di silenzio Com'è quella sensazione Che tu hai detto prima? È cringe È cringe questo Se voi leggete i miei libri Sapreste che ho delle ali Quindi si fate dal presupposto Che voi dovreste prima di tutto Leggere i miei libri Beh, si scrive come si esprime Porca miseria Non credo che Dopo vi voglio indagare Quindi giustifichiamo la presenza delle ali Per chi volesse delle ali Le mie ad esempio sono ali meccaniche Non sono ali normali Perché Ah ok Per chi sa bene il mio background Io ho le ossa di metallo Sono state create in laboratorio Chissà il metal detector in aeroporto È un fuori Abbattetelo Alle ali di metallo No vincchia Non passi mai più al metal detector Eh no non passa Togli di tutto quello che è di metallo Come Wolverine Cazzo Porca ma sono una cosa molto strana Ecco Ho delle ali di metallo Che sono anche abbastanza grandi Che stanno completamente ripiegate nella schiena E queste sono fisicamente giustificate Perché ci sono tutti i disegni C'è tutto un progetto Progetto delle ali di metallo Per dei certi scopi Sì basta Ok Non abbiamo Tu hai capito? Allora Volete essere un fuori Non dovete fare un personaggio Ma dovete fare il background del personaggio Potete giustificare qualunque cosa Potete avere le ali di metallo Meccaniche Meccaniche Basta che avete un disegno E che gli avete comprato i libri di sto tizio Per leggerli Perché se aveste letto il mio libro Lo sapreste che ho le ali di metallo No? Bastardi Comunque Io ignoravo tutta sta storia dei furi E questo è solo l'inizio Danda Io giusto poco tempo fa Ho scoperto quelle code Che si mettono nel sedere I plug Allora i plug anali Che puoi anche farlo senza mettere tono nel culo Comunque Danda So che tu sei comunque Come si dice Impaziente di indossare un plug anale con la coda Ma no Anzi Sembrano un po' scomodi Beh lo scopo è allenare anche il retto Il plug anale di base Allenarlo? Sì Per dilatarlo più facilmente durante il prossimo rapporto anale Ah ok Beh dilatare il retto non è così scontato Oh sì sì Ho capito Eh no Voglio che ci tenevo a farlo sapere tutti Io non c'è a casa Ma 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 sì Ma boh Non so È un mondo che a me mi era sconosciuto Eh ho capito Lo scopo È per aiutare tutti gli uomini e le donne Che hanno difficoltà A dilatare il proprio retto E qui ci sono dei plug anali Che hanno diverse guate Perci vedere Non voglio vederli No Non è che Tu te li metti pian piano Vedi Che hanno le misure Che diventano sempre più grossi E più larghi Cioè vedi vedi Li vendono sempre Li vendono sempre Li vendono sempre A co Sono come i dilatatori per l'orecchia Sì vedi Li vendono sempre così In set Di varie di misure Qua c'è la peretta Perché comunque è importante Sia la lubrificazione Che l'igiene Perché non c'è niente Bensì è lo stronzo Che sta inseguendo la punta del tuo pene Così impari Così impari A fare le cose Come Dio non vorrebbe Eh Vabbè comunque Vabbè in ogni caso Non lo so Ho capito Che c'è questo mondo Ecco Adesso abbiamo bisogno Di purificarci Gli amichetti della fede Drogio a terra Cazzo Sì Che drone è Cazzo Va anche a terra Sto drone Che figata Sembra un personaggio Di esplorando il corpo umano Esplorando il corpo umano Quante storie Che impariamo Amichetti della fede Che spettacolo Ti sta per venire un infarto La cosa bella È che in tutto questo Non c'è stata ancora una battuta E c'è solo questo drone Che con la trama della puntata Non c'entra un cazzo Che trova un negozio di dolci Perché Non poteva iniziare qua La puntata Cristo Dio No Non ho fede Questo minuto Non serve a un cazzo Cristo Allora Come se gli altri Poi serviscono a qualcosa No ma Metti una cosa Che non c'entra un cazzo Con la puntata Che è concentrata sui dolci Cristo È concentrata sui cazzo Di dolci La puntata Inizia qua Perché la bambina Doveva pilotare il drone Perché Perché Chi ha scritto Questa puntata È un incompetente Ti sei calmato Madonna mia Che fastidio Comunque Per un minuto E cinque Più o meno Si vede questo drone Che Che va nel negozio Di dolciumi E poi E poi c'è un altro minuto Di silenzio Calma drone Ritorna qui Perché devo vedere Questo Poi c'è questa scena Animata malissimo Vai Devone Caspita Come sono carini Queste tortine E devono essere Buonissime Questo mi sta facendo venire Un'idea geniale È proprio così Penso che alle ragazze Piacerà moltissimo Oh Gesù Basta momenti vuoti Basta E perché il drone Continua a seguirli Perché come fa a controllarlo Senza il controller Adesso Vabbè ma Il drone ha anche gli occhi Questo non ti stupisce Meno No Mi sorprende di più Che lo controlli così Che tecnologia Uh Uh Quanto è zoccola Ah Ho avuto un'ottima idea Un'ottima idea E lo so Zampox Hai doppiato veramente bene Di cosa si tratta? Stavo passando Davanti a un negozio Di muffin E li ho trovati carini Allora Ho avuto un'idea Di fare i nostri Proprii muffin I nostri propri muffin Ma come sarebbe? Possiamo chiamare Alcuni ragazzi E fare un concorso Di muffin E i giudici Possono essere I ragazzi Possiamo chiamare i ragazzi E fare un concorso Di muffin E i giudici Possono essere I ragazzi Che bello Le storie Sembra ottimo Giuli Possiamo iniziare Anche adesso Sì Lo stupore Lo stupore Calma Che bello Che bello Non vedo l'ora Di iniziare Ricordiamo che questi Sono cartoni animati Di propaganda Cristiana Sì esatto Siete convertiti Dovrebbe aiutarti Nella conversione Esatto Io sono già convertitissimo È una figata È una figata alla fine Ti sta raccontando Che le donne Devono essere Le tue server Che ti fanno i muffin E tu devi giudicarle Esatto E loro sono anche contente No si guardano intorno Dai ragazzi Iniziamo Ma perché Ha guardato intorno Per 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 Sì Che zoccola Questa Se dovessi Scegliere Chi trombarmi Di questa E qua lì Di sicuro Questa Questa è marrone Caspita Giuli Sei molto ansiosa Poi questa è la parecchia De lesbica Sì La quale lesbica Della camutata Soltanto per mangiare Questi muffin Deliziosi Sarai proprio Famata Sei proprio famata Chi è famato Qui No ragazzi Facciamo subito Altrimenti Giulio sverrà È vero Maggie Ma poi Muffinson Già fa Sì esatto Che Da un suo Muffinson Ci sono poi I lesbacchies Ma si va bene Questo Fa già parte Dei Robinson Oh Spero Che questi Muffinson Siano buoni È vero Non so Se loro Sanno cucinare Per davvero Calmatevi Ragazzi Calmatevi Seva che Mi sono fatti Tipo una pena Prima di venire Qua Somma Calmatevi Ragazzi I bambini Più agitati Del mondo Sono stati Comprati Già pronti Loro Più basso Così Loro Non ascoltano Altrimenti Sì Altrimenti Sì Ti ricordi Da piccoli Quando avevano paura Magari Di fare qualcosa Perché Se no La mamma Sì Vai dell'altro Ogni Il segno Cinque minuti Eh Ah il drone Ha anche un timer Che figata Ha un iphone Tipo installato Anche le mani Per E Sare un po' Controllarlo Direttamente Ragazzi Potete iniziare Avete Cinque minutini Cinque minutini Andiamo 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 Ragazzi Sì Che zocco La cazzo Perché la bambina È truccata così Adesso Voglio questo Qui Vai subito Orologio Vai subito Eh Eh Oh mio dio Master C'è qua Qualse cosa ci sarebbe bene Gordon Ramsay Che le insulta Tipo di brutto Sarebbe una figata Allucinante Se non meriterebbe Fuck off Sarebbe bellissimo You You And you Fuck you Sarebbe stupendo Dobbiamo fare un montaggio Con Gordon Che i suoi bambini Questo colore Andrà bene sul mio Beh Minchia Ci mancherebbe ancora So un pochino Di questo qui Ma dov'è il messaggio Cristiano Non lo so È il fatto che le donne Sono Essere inferiori Probabilmente Vediamo Vediamo Nell'altra puntata Che avevamo visto Che sono ancora il tavolo qua Non subito Io inizio Il mio voto Va al muffin Di Maggie È venuto bene Eh Guarda un po' Guarda un po' Eh Mica Siamo il Nostro amico Colorito Eh Eh Once you go black You never go back E questa lo sa Sta zoccola Va 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 Voto per il muffin Di Mmm Caspita Il muffin Di Giulia E Dianetta Sono uguali A causa di questo Voto per quello Di Lucy È vero Mmm Non ho capito Questo non è giusto Vai Levy A chi darai il voto Il mio voto è per te Maggie Adesso possiamo mangiare? Vincerò a zoccola Io non ho ricevuto nessun voto Oh no Oh no Il concorso A quanto pare Non si piega Alle tue esigenze Eh Perché sarà truccato Guarda a casa Ha vinto la bambina più zotta Sì è vero Il mio muffin È carino È carino Ma deve essere buono Infatti Infatti Ma non abbiamo ricevuto Nessun voto Perché i nostri muffin Sono uguali Eh È vero Che cosa è successo? Perché i vostri muffin Sono uguali Ma chi se ne frega Non lo so Non mi sono Che punto Questo è il punto Catattico Dell'episodio Che sono uguali i muffin Nemmeno guardati intorno Penso sia stata una coincidenza E abbiamo finito Per pensare uguali Vero Aneta? Eh Eh Sì Non è stato proprio così Julie Ho copiato alcune idee Del tuo muffin Come hai fatto a copiare L'idea del tuo muffin Ma erano tutti i muffin uguali Con due cose diverse Ovvio che erano uguali poi Sai che non hai fatto per cattiveria Ma qual è il punto? Non riesco a capire quale è il punto E questo è l'importante morale dell'episodio Soprattutto che non sapevo cosa fare E il tempo stava passando Non c'è problema Aneta Lascia stare Aneta non aveva bisogno di copiare di Julie L'importante è che ci siamo divertite E non vincere ad ogni costo Lo dicevo L'abbia vinto Esatto È vero Guardate il mio muffin Non sono molto brava per guarnire Ma anche così Mi sono divertita tanto Infatti ragazzi Ma che divertimento è? Mentre le caramelle su un cazzo di brioche Dai ragazzi Adesso che abbiamo risolto tutto Scoppiamo Possiamo mangiare subito questi muffin? Ah non li hanno neanche assaggiati No 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 Li hanno giudicati così Ma non era per mangiare ancora? Eh? Rino lo manovano capito Sì vedi vedi Uno di quelli tipo Quello di quei bambini Mezzimitardati Violentissimi Che appena non vedono Tutte te vieni più di botte Comunque questa è l'amichettina E se l'amichettina Il punto di questi dieci minuti Più belli della nostra vita È che Dovete partecipare E divertirvi Ma vincere Non è tutto in una competizione Grazie a Dio Per averci dato Un'altra Importante lezione Bravo Zanfox dice Ha raccolto il punto Che la morale Aspettiamo la chat Ecco bravo La morale è darla per vincere E copiare nel dubbio È vero Nel dubbio Il gioco l'ha vinto In effetti No quelli che hanno copiato In realtà sono stati penalizzati Sia chi ha copiato Che chi è sempre copiato Vabbè per non farsi una figura di merda Però almeno ha copiato Esatto Non avrà vinto Già sono di sto marrone del cazzo Che non è né bianco né nero Meglio copiare Nel dubbio Nel dubbio Giustamente Passiamo alle notizie più serie Dopo tipo 49 minuti di trash inutile Fai la sigla Danda Ah già Non abbiamo ancora una sigla No perché se non la faccio io Non la fa nessuno È vero E tu non mi stimoli a farla Ma io non so fare niente Non so manco che resistessero i furri Fino a poco fa Figurati se sono una sigla Non so fare niente Niente sa fare Danda Vabbè ma dammi idee Stimolami il cervello Fai qualcosa Allora Sono successe tantissime cose Una più brutta dell'altra Esatto E Siamo sull'ordo 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 Siamo a rischio guerra Sull'ordo di una guerra non lo siamo Dunque l'America vuole andare in guerra Come al solito Blah 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 Che meraviglia Che strano Cioè non è il presidente Secondo me l'America Che ha bisogno di guerra E continuava ad andare in guerra Tutti i presidenti americani Hanno fatto la loro Sì avevo letto che Su Tipo il 90% degli anni L'America è stata in guerra Per un motivo Per un altro Una forma di guerra Ce l'aveva Sono motivi principalmente Ovviamente economici E appena c'è Più che altro La cosa dell'attacco Col gas Fa ridere Perché morivano civili Da chissà quanto tempo Ma proprio A manetta Però col gas no eh Se li fai Se li fai esplodere Con le bombe Se li fucili Se i bambini muoiono Sotterrati dalle macerie Va bene Però col gas Non puoi eh Col gas E bomb Trump si incazza Poi il discorso Che aveva fatto Era bellissimo Vedete Era lì Beautiful Beautiful children Gorgeous children Va a questo Puntare sui bambini No che gli hanno fatto Un cazzo di bambini A Trump ovviamente Come gli hanno fatto Un cazzo a me Come gli hanno fatto Un cazzo a Zanfox Come gli hanno fatto Un cazzo a Shimbiscius Come gli hanno fatto Un cazzo a Prudenza Sempre Come gli hanno fatto Un cazzo a Danda Perché siamo onesti Ragazzi Muoiono bambini Tutti i cazzo di giorni Tutti i cazzo di paesi Del mondo E sapete qual è la verità Che non ve ne fotte Un cazzo Anzi Non facciamoli Nemmeno vedere Per favore Che poi devo Mettere in dubbio La mia moralità Mannaggia a tutti Devo mettere in dubbio La mia moralità Perché poi Mi metto a pensare A mamma E me ne fotte un cazzo Di questi bambini Meglio che faccio finta Che me ne fotta qualcosa Su Facebook Fate tutti schifo Siete delle merde Perché siamo fatti così Noi esseri umani Abbiamo empatia Al massimo Vera Per chi ci sta intorno Ma fondamentalmente Sappiamo benissimo Che il 90% del pianeta Vive 20 volte peggio di noi Ma non siamo disposti A rinunciare A niente Per migliorare Le condizioni di vita Di questi altri paesi Tranne per grave persone Che davvero lo sono Sono davvero Compassionevoli Empatica Tutto quello che vuoi Ma il 90% degli esseri umani È feccia Esattamente Come me Su quando si tratta Di essere buoni E gentili Con il prossimo E adesso mi sento meglio Perché finalmente l'ho detto Quindi mi state tutti quanti Sul cazzo Siete tutti quanti Dei pezzi di merda E solo io Dall'alto Del mio intelletto Della mia moralità assoluta Sono in grado Di giudicarvi Merde Tu Danda per esempio Provi davvero pena Per questi bambini Sinceramente sì Ah che palle Danda Hai rovinato il mio piano Per tutti i bambini Del mondo Provi pena Solo perché Te li hanno fatti vedere In tv Beh no Ma io sono consapevole A prescindere dal fatto Che me li facciano vedere In tv o no Che la maggior parte Delle persone nel mondo Vive distenti E tu saresti Rinunceresti a qualcosa di tuo Per migliorare la loro vita Ma sì Se potessi sì Non so Puoi E cosa dovrei rinunciare Di soldi Puoi fare delle donazioni Sì Quali soldi Qual è l'ultima volta Che hai fatto una donazione Danda Ma io se posso le faccio Però non Non è che ci sono Se tipo avevo adottato Un bambino africano Che palla Ma devo avere l'unica parte Percipante al podcast Che fa davvero Una persona morale Che due coglioni Io do sempre l'euro Per il carrello Ah io sì sì Però porca miseria Adesso hanno preso il vizio Che mi stalkerizza Il ragazzo che c'è di fronte All'idl E mi viene sempre A chiedere la moneta Perché ha capito Che io sgancio Minimo un euro Due euro Ah due euro pure Due euro sì sì Minchia No perché a me Da fastidio la gente Che gli da tipo I centesimi Perché è umiliante Sì lì è proprio Una cosa per il culo Sì esatto Gli do minimo I 50 centesimi del carrello Gli do quello che c'è nel carrello No perché io nel carrello Uso il soldo finto Ah e perché usi il soldo finto Perché il soldo finto Sono sicuro di non spenderlo Quindi ce l'avrò sempre Dietro capito Ma se tanto dai sempre Un euro 50 centesimi Ah c'è sempre dietro È vero Eh ce l'ho sempre dietro Cioè a volte Non c'ho proprio moneta Io sono una Di quelle persone Che utilizza prevalentemente Il banco Sì anche io non uso mai La carta ormai E di conseguenza A volte può succedere Mi è successo Di non avere Proprio il taglio di moneta Giusto per andare nel carrello Ah sì 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 E di conseguenza la moneta finta Da brava massaia Io uso questi trucchi Devo prendermela anch'io La moneta finta Perché sono sempre senza carrello Poi devo fare la spesa E vado con tipo Quel cazzo di cosino Lo riempio di roba Cazzo Minchia l'altro giorno Mi si è strappata Quella cazzo di borsa Che sai quelle lì Che usano adesso Non ho preso il carrello Ho preso la borsa Quella lì di mais Non so che cazzo Sì 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 Mi si è strappata Nel parcheggio Ah sfigata Che fastidio Avevo caldo Avevo i pantaloni Troppo pesanti E poi praticamente Sudava tutta E quando si è chinata Si intravedeva Non era un bello spettacolo Si intravedeva La natica Dell'umidiccio Ma che è la natica Dell'umidiccio Perché aveva i pantaloni Aveva i pantaloni Semitrasparenti Ma no Erano neri In modo sensuale Per raccogliere Tutta la roba E sì Da davanti Si vedeva tutto il décolleté E da dietro Si vedeva questo culetto Voi ragazzi Non avete idea Che spettacolo Era stare all'idol In quel caldo Sabato pomeriggio Ma che deficiente Cosa Sto cercando di accendere La fantasia Dei nostri iscritti Perché è molto meglio Per farli fidelizzare Che si masturbino Pensando a te Ma io preferirei di no Ma sì Tanto che te ne frega Scusa Saranno fatti loro No Se Zanfox Vuole consumare Il suo seme Da solo pensando A Danda Del podcast qualunque Sì sì E' importante La fidelizzazione Sessuale Che bella consumazione Consumazione Consumonio Come si dice Per consumare E consumi Alla fine scusami Per guardare un porno generico Su internet Clap 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 Per il rieccomi Per il rieccomi Ah boh 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 Vabbè comunque Vabbè a parte Consumare per consumare Consumate Consumate sul podcast qualunque Così fidelizzate Tipo c'è stata una frase Che io avevo in mente Per anni Sempre una E sempre su quella Pam 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 Proprio E' come se ci fossessi insieme Praticamente E' come se fossimo Un appuntamento fisso Ogni sera Siamo tutti Ah c'è anche Ciao Ciao Fennec studio Ale Loc ma non credi Che ci sia un giro losco Sull'evo del carrello Sì c'è di sicuro Un giro losco Eh sì sicuramente c'è E ne siamo tutti consapevoli Però A me fan pena Sti ragazzi Cosa devo dire Mi viene da piangere Il fatto è che Vabbè Vabbè peggio per tutto Il fatto è che Anche se c'è un giro losco Loro stessi Se non portano a casa qualcosa Probabilmente avranno Delle conseguenze No? Sì Nel senso Se c'è davvero un giro losco Peggio ancora Se non hanno i soldi Ecco Non si è contenta Di uccidere le possibili Omenì pensando a te Danda Randa Eh? Non sei contenta Sta parlando come Quelli di Amichetti della Fede Zanfox Cazzo L'ho influenzato male Io non ho capito la domanda Che si fa le serie Pensando a te Non sei contenta Se si fa le serie Pensando a te Ah Ma non mi indiferenza Io da uomo Sarei contenta Io quando Quando ero disintedute Avevo una fan Che si masturbava Con i miei video E me lo scriveva A me piaceva l'idea Che si masturbasse Con i miei video Anche se Ti ho detto che Dentro Zanfox Sta uscendo fuori Anche se Anche se fondamentalmente Ero un cesso Sta qua No? Però L'idea che si masturbasse Guardando i miei video A me piaceva un sacco Ah ok Mi sentivo importante Quindi alla fine È un modo per Crescere il nostro ego Uh Perché tanto Tutti quanti lo facciamo Non nascondiamoci Dietro Dietro uno schermo No? Adesso andate su Facebook E taggate Danda No no Mi masturbo Pensando a Danda E poi Impostate la foto Del cazzo Sulla pagina Io ho visto Uno di questi personaggi Andarsene in BMW Non lo so Ma chi? Allora aspetta Ma di che stai parlando? Scusa Perché io Io parlo dei ragazzi Che in genere Vengono dal Senegal Penso Sì Io l'ho sempre visto In bicicletta Più che in BMW Cazzo Io li vedo spesso Mi fa una paura Quando Di notte In bicicletta Porca troia Di notte In bici contromano Sulla statale Con i giubbotti nevi Cazzo Sono invisibili Porca troia Esatto Te li vedi davanti Io ho sempre paura Di schiacciarne uno Un giorno all'altro Sì no è vero Io infatti Quando torno So che io ci vivo vicino Una casa No? Dove Una cooperativa Cosa di accoglienza Sì Una cooperativa Tipo qualche E Ho sempre Praticamente Paura Di beccarli Perché loro vengono Sempre in bici Se va tardi Proprio su queste stradine Piccole No? Quindi basta che fai una curva Un minimo male E E quindi Li pigli Poi dico Boh li pigli Vado via E bom Cazzo Ma finisci Ma non ci credi nemmeno Tu a quelle cretinate Che dici Ma sì Lo so Sono una persona così Vicino Palmanova Al desper Vabbè Non so dove sia Al dispar di Palmanova Ma si masturbano Anche in bici Sì Sfruttano Che chi sono Se si masturbano Anche in bici Eh infatti No è impossibile A parte che Perdi l'equilibrio Sì A me viene duro Ogni tanto Mentre vado in bici Però penso che sia colpa Della stimolazione Che hai Beh sì Più che altro Mi viene duro Ma a parte della sensibilità È stranissimo E lì mi preoccupo A volte Mi fermo un attimo E lascio che il sangue Vi cominci a A scorrere normalmente Una cosa meccanica Del tipo Sì 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 Si blocca Il sanguelino Non lo so Non lo so come funziona Onestamente Perché In teoria appunto Perché il sangue non arriva Non dovrebbe succedere Vabbè rimane Ma un circolo di sangue Ci sarà sempre Rimane di bloccato Forse si gonfia Si gonfia Si gonfia Che figata Che ciò come funziona Il vostro attrezzo E per di più Si abbassa la sensibilità Quindi mi Si aumenta Anche la durata Dell'atto Quindi devo farmi un giro in bici E poi consumare L'atto sessuale Per il massimo della prestazione Vi gonfio Perché c'è tutto il sangue Coagulato dentro Ormai Me lo devono mozzare dopo Però Sarà una figata A posto Donne Preparatevi Perché sto venendo A casa vostra in bici Che bella venaccia Oh Nulla è impossibile Dice Prudenza sempre Comunque Dicevamo Che Ah Gli amichetti della fede Sono ovunque Andiamo sempre a finire in bacca Qualsiasi discorso Comunque C'è Il problema appunto Della guerra Che cosa Che cosa Non so Perché stava parlando Di io che vado in bici Adesso Ce ne siamo in guerra Di nuovo Il fatto è che Nessuno dei due Ha seguito tantissimo Il succo è Che ci sono problemi Con Nord Corea E Cina E Oddio E la Siria Solito problemi in Siria Secondo me Dovamo analizzare Un altro aspetto Ok che l'America Eh Danda venga da sti in bici Se vuoi Michele Lunga Il problema secondo me è questo Che Il dubbio morale è questo Secondo me L'America è giusto Che faccia Al di là degli interessi Economici che hanno No L'America è giusto Che faccia il poliziotto del mondo Oppure no E dì Tu Io dico di no Di base Perché tanto Non ne otteni mai niente di buono Perché quando tu Destabilizzi una regione Togli un potere Per quanto malvagio Possa essere Crei un vuoto Che di solito Si colma Con guerriglie Disordini civili E quant'altro È sempre stato così Perché l'America Non l'hanno ancora imparata Però Onestamente Prendiamo la Corea del Nord Ad esempio No Cioè A livello proprio umano Le persone che ci vivono Che vivono in quelle condizioni Allucinanti Non sarebbe Positiva Un'invasione Della Corea del Nord Secondo me Le rivolte Perché funzionino Devono sempre partire Da dentro Non da fuori Eh ma È una struttura Quella del Sì sono in ritardo Ovviamente i commenti Un po' è normale C'è una struttura Però All'interno della Corea del Nord Che è prevenzione Assoluta Nel senso che lì Ti ammazzano Se guardi un film Americano Siamo a quei livelli Cioè Secondo me Non si arriva Poi a una Alla pace Facendo come fanno Gli Stati Uniti Invadendo Eh lo so E andando lì Però In Corea del Nord Quante generazioni Ancora dovranno morire Prima che Perché lì E come fai a uscire Né un loop infinito Sono chiusi In uno spazio Troppo piccolo E troppo facile Da controllare Prima o poi Qualcosa evolve Eh ho capito Ma fra quanto tempo Nel senso A che punto Ma facendo così Cosa ottengono Gli americani Da quando esistono Pigliano Vanno Invadono Se ne vanno E lasciano un puttanaio Terribile Sì Ho capito Gli oriente Stanno facendo Un cattino Eh lo so Lo so Poi in Corea del Nord È una situazione diversa Se tu ammazzi Soltanto la famiglia reale No Distabilizzi tutta la nazione E dato che tutto si basa Sulla figura Proprio della Della famiglia reale Praticamente Non so se è una monarchia Però penso Che sia una specie di monarchia Hai destabilizzato Già di base La regione E di base Penso che Il vuoto Si dovrebbe riempire Magari con un'elezione democratica O quel punto Perché non è una regione Dove ci sono gruppi in guerra All'interno E questo è il punto Sono tutti Allineati Sulla stessa Cioè Sulla stessa riga No Ci sono solo quelli Che vanno contro il governo Di base Che vogliono andarsene Però non gliene fotte un cazzo Cioè vorrebbero salvarla La Nord Corea Dalla situazione attuale Però Di base La combattono all'interno Poi se ne vanno Vogliono andarsene E basta Sono situazioni troppo complicate E poi Tutte le persone che soffrono Tutte le persone che ancora soffriranno Non è meglio Non so A volte ci penso Cazzo Buttateci in atomica Sul loro palazzo Un'atomica no Bombarda il loro palazzo Il problema è che loro non lo fanno Perché ti sparano le atomiche poi Magari sparano loro un'atomica In Corea del Sud Perché l'atomica ce l'hanno In Corea del Nord Ma non si sa fin dove possono spararla Cioè non si sa se sono in grado di Spare un missile intercontinentale O poi arrivare solo in Corea del Sud Quindi è un po' quello il dubbio Ho capito E quindi tutti hanno paura Solo per questo fondamentalmente È come se giocassero a poker Tipo Blefano Blefano col detergente nucleare Che poi mi chiamano le bombe atomiche Siamo talmente stupidi Abbiamo creato Abbiamo riempito il nostro pianeta Sì Di bombe Che potrebbero potenzialmente Come si dice Potrebbero potenzialmente Distruggere la razza umana È allucinante se ci pensi Noi abbiamo costruito Abbiamo piazzato sul nostro pianeta Che tu puoi disarmarle Le bombe puoi smantellarle Ma devi comunque Non è che puoi Reciclare L'atomica Cioè Il componente in sé Lo muri Lo sotterri Tutto quello che vuoi Ma rimane lì Noi abbiamo costruito Delle robe del genere Sul nostro pianeta Ma poi Già solo il fatto che esista il progetto Tu metti che Riescono a smantellarle completamente Tutta Non c'è più una bomba atomica In tutto il mondo Però puoi sempre farle Però esiste sempre il progetto La puoi sempre costruire Cioè È assurdo Il principio Per la quale si costruiscono Le bombe Per far paura agli altri In modo che loro non ti tirano Ah io ce l'ho più grossa Io ce l'ho più grossa ancora Te la tiro Guarda che poi te la tiro Prima io Poi arriva quell'altro Cicciottello non coreano E io ce l'ho più grossa di tutti E non faccio la cacca E faccio essere un campione Di pallacanestro Esatto Mamma mia È vero Tipo il Metal Gear Metal Gear Solid In realtà come che gioco Cos'è un Metal Gear? Il Metal Gear È un cavarmato In grado di sparare le bombe atomiche Che però non esiste Esiste solo un video Il videogioco Però La storia del primo Metal Gear Che parla tantissimo Del deterrente nucleare Che parla di terroristi Che prendono una base Di Una base segreta Non mi ricordo più di che nazione C'è giocato C'è giocato di recente Poi ho tagliato tutti i video Quando c'è giocato di recente E E appunto Parte appunto La minaccia Il gioco Delle minacce nucleari Tra terroristi e non E la cosa sgrave È che loro potevano lanciarle Con questo Metal Gear Che è un cavo armato Quindi tu potevi metterlo Dove volevi E sparare le bombe atomiche Ah Fantastica Sì E Vabbè Sì Esplora molto bene Il concetto in realtà Della Guerra fredda Della guerra nucleare Sì Danda non conosce Metal Gear Ma fai vuoi se io conosco Metal Gear Non conosce Metal Gear Non conosce niente Non ha visto la cosa Non ha visto Pulp Fiction Pulp Fiction Sì che l'ho visto Cos'è che non hai visto? Matrix Non hai visto Matrix Non hai visto Ah c'è un altro film grave Che non l'avevi visto Le Iene l'hai visto? Sì L'abbiamo visto insieme Ti ricordi? Abbiamo visto insieme Le Iene Sì e dopo abbiamo visto Quel film su Gesù che andava nello spazio Gesù che andava nello spazio? Sì Che figata E poi abbiamo guardato Anche un documentario Sui testimoni di Genova Ma quando? Te ne sei sognata Ma una sera che eravamo Qua sotto da te Nel Lì in salone da te Abbiamo guardato sti film Ah sì? Sì Abbiamo fatto una malatona film? Sì abbiamo visto Le Iene E altri E questi documentari Ma ti ricordi? Ah documentario di quello Della religione? Sì Quello me lo ricordo Gesù spaziale Andava e lanciava Dei raggi nello spazio Di quella religione strana Come che si chiama? Ah Scientology E non era Gesù spaziale È tutta un'altra cosa Minchia hai trasformato completamente il Ma c'era Gesù nello spazio Che volava Ah quello erano i mormoni Allora Quello erano i mormoni Che alla fine c'è Gesù Che va nello spazio E non mi ricordo più adesso Vabbè comunque È una stronzata Come tutte le religioni Non avete ragione Dio non esiste Morirete Se avete niente Come prima di essere nati Va bene? Sì È inutile che vi nascondete Dietro queste stronzate Comunque Comunque la razza umana Mi fa schifo Ho visto anche Nel tramonto all'alba Ah ok Infatti un'altra cosa Che fa ridere Che è successo di recente In India Hanno fatto un C'è una montagna di rifiuti No? Questa montagna di rifiuti È crollata Tipo tsunami di rifiuti Ed ha ammazzato tutti Quelli che c'erano sotto E quindi la gente È morta Affogata nei rifiuti Ti immagina che la razza umana È talmente stupida Ad accumulare poltiglia Rifiuti e immondizia Fino ad ammazzarsi Da sola con essa Peggio dei napoletani Non mi ricordo A me i napoletani Gli danno fuoco Dopo un po' C'era una puntata Forse di Futurama Che c'era Questa Asteroide Di immondizia Che veniva lanciando Che tornava indietro Sulla terra Sì sì ma ci siamo quasi Eh ma infatti Non è così assurdo Perché arriviamo al punto Che la sfariamo nello spazio La merda Quando vengo a trovarti Guardiamo Matrix Poi Locke Fai finti ed tormentati E mi lasci solo con Danda Sì Va bene Sicuro fosti Sì sì Era in India Non era a Napoli Era in India Era in India In India è come Napoli Però più grande Con più gente concentrata Fondamentalmente E poi lo ripeto A Napoli Almeno dopo un po' I rifiuti gli danno fuoco Non li lasciano lì per sempre Dopo un po' Scatta l'incendio Nella piazza E boom Comunque Attento Che camminiamo sul ghiaccio sottile Parlando così In Napoli Zanfo Ah no no Non dicevo Ah ok ok Sai che qua poi La gente pensa Pensa che Che noi ce l'abbiamo con i napoletani Ma figurati Io Io che la voglio col center I napoletani li adoro Sono persone Così deliziose Cazzo Ma sul sole In teoria va bene Sparare l'immondizia sul sole Potrebbe essere Potenzialmente Una Una soluzione Nel senso Se ci pensi Alla fine Non può Come fai Non è che Puoi inquinare il sole Cazzo Sparassimo anche Un pianeta grande Come la terra Che ha fatto l'immondizia sul sole Non è fatto un cazzo Non è un'esplosione nucleare Sì infatti E infatti E poi talmente immenso Che non possiamo Produrre talmente Abbastanza immondizia Da effettivamente Diciamo Danneggiare il sole È impossibile Quindi buono Il sole È approvato come metodo Di smaltimento Dei rifiuti Quindi buono Bravi Spariamo la nostra immondizia Abbiamo risolto Con la nostra chat Il problema Dei rifiuti Nel mondo Che poi in realtà Già i nostri satelliti Sono diventati immondizia Tanti nostri satelliti Che girano intorno al pianeta Sono immondizia E penso che un giorno Quando Diventava un problema Ben più grave Si dovrà trovare Una soluzione Insomma Per evitare Che ci cadano Tutti quanti in testa Perché prima o poi Vi tornano Nell'atmosfera E non tutti Verranno distrutti Dell'atmosfera Magari cadranno Dei mini detriti Che pensa A quel mini detriti Che ti prende Ti prende e ti ammazza Poco prima Che hanno dichiarato La pace nel mondo Danda Pensa E muori Prima di vederle la pace Tu che Mivi tanto alla pace Io che miro tanto alla pace Sì esatto È arrivato anche un mi piace Sulla nostra pagina Del podcast Qualunque Bravi E vedete un mi piace al video Pezzi di merda Che ce ne sono solo due Siete in dodici Cazzo Mi chiediamo Incendiamo i satelliti in orbita E poi li facciamo precipitare Sul Napoli Così a muzzo Senza niente Bellissima Napoli Qua ce la tolgono La campanella Vedi Napoli E poi muori Ma poi Ah poi volevamo parlare Anche di Youtube Cazzo È vero Perché Quante cose Perché a forza di fare battutacce Si viene puniti Esatto E non va bene Cioè non va bene Che veniamo puniti Voi non avete idea Di quello che sta succedendo Con la monetizzazione Su Youtube Vogliono solo contenuti Da bambini Me ne sono accorta Persino io Perfino Danda Se ne accorta Perché gli ho detto All'occhio L'altro giorno Ma Che strano Io avevo le campanelle Su tanti Youtuber Su tanti Cosi E sono sparite tutte Com'è sta storia Perché Youtube vuole pilotare L'utente No Tu utente Non vuoi guardare Il podcast qualunque Tu utente Vuoi guardare Questo gattino Che ride felice Che belli i gattini E sui miei canali Che sono tipo Disinterview Per questo voglio tornarci Perché mi ha fatto incazzare Sta cosa Su Disinterview Ad esempio Su Disinterview Tipo In partnership Con un'azienda esterna Me l'hanno tolta Così Di colpa Muzzo Perché è un canale Pericoloso No E Youtube Mi ha demonetizzato Tipo tutti i video E poi Li ho rimonetizzati Direttamente con Youtube Una volta tolta la partnership E Sai quelle Io ho tutti i video Che su quel canale Scopaggi Sesso Entai Tette C'è di tutto Su quel canale Scopaggi Sapete Qual è il video Che Youtube Mi ha proprio mandato un'email Per dirmi Che questi contenuti Non sono ben accetti Il video dove ho scritto E Ve lo dico in italiano Il femminismo È pericoloso Per i giochi entari Ah Cioè Quello È il video Che non va bene Perché c'è Femminismo È pericolo Nella stessa Nella terza cosa E Sì Non arrivano le notifiche Del podcast Perché il podcast Anche È un altro canale Che è entrato Nella cerchia nera Di Youtube Adesso Il buon di Notinelli Dovrebbe Dovrebbe È vero Di Notinelli Dovrebbe intervenire Perché È un complotto Bello e buono Eh sì Perché i nostri video Metà dei nostri video Sono diventati gialli E c'è scritto Questo video Non è adatto Alla monetizzazione Perché c'è la parola morte Nel titolo Perché Cioè Tu non puoi mettere Qualunque parola Un minimo Stupratore Non va bene Morte Non va bene Ma il fatto è che È la parola Non il contesto Uno non è che titola È viva lo stupro Come sono simpatici Gli stupratori Gli stupratori Sono una figata No Non è così Cazzo Ed è contestualizzato Eh infatti Ma è allucinante Più che altro Lo scopo è quello Infatti è questo Che Tutto è nato dal fatto Che C'erano 4-5 video Di vero razzismo E Il mainstream media È andato Dalle aziende pubblicitarie E ha detto Ascolta aziende pubblicitarie Guarda che su Youtube Ci sono ste cose Non vuoi associare Il tuo marchio O ste cose No Tutte le aziende pubblicitarie Si sono tolte Da Youtube E Youtube In risposta Ha detto No 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 Non vi preoccupate È tutto safe Su Youtube E hanno demonetizzato Non i contenuti Davvero pericolosi Hanno demonetizzato Tutti i contenuti Che hanno idee Tutti quelli che portano Un'idea A un punto di vista Diverso Vengono demonetizzati Un canale che seguo io Ha Avuto una riduzione Nei guadagni Dell'85% Tu immagina Che hai uno stipendio Hai un lavoro Arrivi il giorno dopo Al lavoro E ti dicono Guarda Questo mese guadagni L'85% In meno Che stronzo Cioè È allucinante Perché Youtube Avendo un contratto Monodirezionale Non essendoci qualcuno Che tutela Chi produce Controtti su Youtube Può dire Quello che vuole Forse un lavoro normale Il peso Sarebbe Sull'azienda L'azienda dovrebbe compensare Il laboratore E poi mettersi a posto Lei con le pubblicità Per intenderci Poi essendo Youtube Un post dove Sì non hai nessun contratto Cazzi tuoi Che per canali enormi Non è un problema Perché le pubblicità Sono una frazione Del guadagno Per i canali enormi Ma tutti quei canali Che magari sai Arrivano lì e dicono Bom sto iniziando Sto iniziando a guadagnare Quegli 800-900 Mille euro al mese Posso iniziare Ad investirci il tempo Per dire Questo può essere Il mio lavoro Sì Sono fottuti Perché da 800-900 Mille euro Guadagni magari Un euro o due C'è un canale Di un giornalista Che ha mollato Il giornalismo Tradizionale Perché doveva Imbeccare le notizie Come gli veniva detto No? Non gli piaceva La questione Tutta la manipolazione Che c'era dietro Non gli piaceva essere Il burattino Gli piaceva La professionalità Del mestiere Era un vero giornalista Esatto Era un giornalista vero Allora ha detto Bom io Mi informo Con i mezzi che ho Internet Perché alla fine Per informarsi Di internet va benissimo E vi porto le notizie Sul Sul mio canale Vi porto le notizie Sul mio canale In un postazione Molto seria Lui Non era uno di quelli Che aggressivi Era sempre un tono Molto serio E professionale 500.000 visite 34 centesimi Quindi lui si è ritrovato Di colpo A non guadagnare Niente Perché Il suo canale Era finito In una lista nera Di canali di youtube E ad esempio Ad esempio Il Il tizio Scusate Mi sono perso Perché leggo la chat La chat fa schifo al cazzo Perché mi fa parte del filo Del discorso Ad esempio Si è scoperto Poi lui Che era in contatto Con un'azienda Che voleva fare pubblicità Sul suo canale E aveva chiesto a youtube Io voglio La mia pubblicità Su quel canale St'azienda Ha chiamato il supporto Di google E ha detto Come mai Io ho controllato Le mie statistiche E io che volevo La pubblicità Su quel canale Ho pagato Ma la mia pubblicità Non c'è Ed è venuto fuori Che gli hanno proprio detto Quel canale Non può avere pubblicità È una specie Hanno proprio premuto L'interruttore Tu puoi pagare Perché vuoi essere associato A quella persona Ma non puoi Perché youtube Dice che quel canale Boh Lista nera Non può più avere soldi Dalle pubblicità E questo ha creato Tutto un movimento Abbastanza Preoccupante Perché Alcuni Stanno sulle loro Ma tanti Preferiscono Magari piegarsi A youtube E Inclinare La direzione Delle loro idee Beh ma certo Perché in un periodo In cui già magari A lavorare Non è che proprio Ce ne sia Chissà cosa Tu hai visto Un po' di guadagno E hai detto Vabbè questa qua Può essere una buona opportunità Magari per fare qualcosa Che mi piace Eccetera E ovvio Ti vedi Toccare sul vivo Sul portafoglio E ovviamente La maggior parte Ti pieghi La maggior parte Non tutte le persone Com'è sul posto di lavoro Normale Quanti Tutti cediamo al compromesso Non siamo né che siamo Tutti dei figli Della madonna Che dicono No io Ma alla fine C'è il compromesso E quindi Questo sta un po' Uccidendo anche Le opinioni Di base su youtube Alla fine è un peccato Perché comunque Si avvengono Che tu puoi essere Favorevole o contrario Però Stai punendo Chi ha un'idea E stai favorendo Chi produce contenuti Assolutamente Non Sì no Ha perso Anche youtube Ha perso soldi Il problema è che Anche youtube Ha le mani legate Perché se ti tolgono Le pubblicità Come fa E sono ricattati Alla fine Però Avrebbe dovuto gestire La situazione In modo diverso Magari cercando di Perché le aziende Sono fatte da vecchi Queste aziende Secondo me Queste grandi aziende Sono composte da vecchi Che non capiscono un cazzo E non si rendono conto Che la pubblicità su youtube Non costa un cazzo E non è come la pubblicità In tv La tv ti dice Guarda tu Vuoi pubblicizzare Il tuo giocattolo Noi abbiamo Tanta gente giovane Che ci guarda Dalle 16 alle 20 Ok E tu spari E speri Che ci sia davvero Quella gente giovane Youtube ti dice Vuoi pubblicizzare Il tuo giocattolo Guarda Io in base All'età Ai video che guarda Questo individuo Ti dobbiamo dire Esattamente Non solo quanti anni ha Ma se il tuo giocattolo Può rientrare o no Nei suoi gusti E solo in quel caso Vi faccio vedere la pubblicità Cioè E' potentissima Come pubblicità E' molto più efficace Ah Il tuo giocattolo Per comprarlo Uno che lo vede su in tv Deve andare in negozio No 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 Clicca E lo comprano online Su amazon Il tuo giocattolo Con la mia pubblicità Cioè E' proprio efficace La pubblicità su youtube E' molto molto più efficace Di quella in tv E costa anche meno Però Sti cazzo di vecchi Bloccati Sono convinti Che la tv E' ancora il mezzo Onnipotente Che è un tempo Non si evolvono Le aziende non si evolvono Quelle colossali Sono Eh si muovono lentamente Perché sono dei colossi Alla fine Sono poche quelle che si Sono le aziende più piccole E più giovani Che in effetti Sfruttano meglio Il trend Della tecnologia Per andare più avanti Rispetto agli altri E avere quella marcia in più Che magari Le farà diventare grandi Un giorno Ah Comunque Non ho voce Porca puttana Ah si Comunque direi Che l'episodio del podcast Qualunque Possiamo anche chiuderlo qui E fare un po' di post show Sei contenta di andare Si sono contenta Quindi ragazzi Grazie per averci seguito L'episodio numero 24 Che è stato in diretta Mi raccomando lasciate un mi piace Sia alla live Che se siete in diretta Pezzi di merda Vi odio tutti quanti Sia alla non diretta Se lo state guardando dopo Hai visto Danda Che abbiamo parlato lo stesso Che non sapevi Vedi triste Perché non sapevi Non è informata sui fatti Eh si Perché mi da fastidio Non essere informata sui fatti Eh La prossima volta Ti compri una tv Cazzo Fai sistemista cazzo di antenna Eh Se i miei vicini di casa Non mi tagliavano L'antenna della televisione Magari ero più contento Cazzo di vicini di casa Di merda Ma ne scopriamo di più Nel post show Del podcast qualunque Ciao